I vostri guerrieri ed astronavi per il cielo soscuro Tiranto i missili e lancia termiche e mille più robot Ma noi che siamo uomini Noi difenderemo la libertà Ecco gli eroi che insieme a noi lotteranno C'è lì e lì, inziosi e già con il grande Ando, Ganga Ecco, vedete, introducendo una spia qui al quarto comando della polizia scientifica internazionale Potremmo scoprire il segreto di Ganga Sarebbe troppo bello, finora le nostre spie non sono riuscite a scoprire un bel niente Il segreto di Ganga è custodito lì, bisogna semplicemente cercarlo in maniera diversa In maniera diversa? Osserva Un terrestre? Intendi sfruttare un terrestre? Certo, questo terrestre è uno dei tecnici del laboratorio annesso al quarto comando della polizia scientifica internazionale Tramite lui scopriremo il segreto di Ganga dall'interno Gli abbiamo praticato il lavaggio del cervello E poi lo abbiamo condizionato in modo da asservirlo ai nostri voleri Ci consegnerà l'arma segreta L'arma segreta? Sicuro Vai e scopri il segreto di Ganga, ce lo devi comunicare subito Sono arrivato e adesso devo scoprire il segreto di Ganga Che è successo? Il cortile! Fuoco! Un robot misterioso ha attaccato la polizia scientifica Sì Il papà di sé ha raccontato un particolare incredibile Il robot era semitrasparente No, semitrasparente Nonno, secondo me questo è un'ennesima trovata dei blaster Ma al laboratorio l'apparecchio che rivela la presenza dei blaster ha forse dato l'allarme che tu sappia Ma che apparecchio? Io mi fido solo del mio sesto senso Ma... E' stato ripreso proprio mentre entrava nell'archivio Per fare questo deve essere capace di modificare le sue proporzioni Può darsi Che sia riuscito a penetrare negli archivi è molto grave Devo aver avuto un obiettivo ben preciso Ha perfettamente ragione signore Ma ancora non ci è dato di sapere a che cosa mirasse quell'individuo Mi è venuta un'idea Vuoi venire a fare i compiti da me oggi pomeriggio? Charlie, mi stai ascoltando? Non ti va forse? Non mi va cosa? Non mi stavi ascoltando? Ah, scusa, mi stavo pensando ad una cosa Va, non mi stai mai a sentire Cindy Sei sempre distratto quando la gente ti parla, Charlie Non dai mai retta Oggi, per esempio, durante la lezione di storia sei stato ripreso perché ti eri distratto Eh, lo so Tu sei in gamba e potresti andare forte a scuola se lo volessi Hai ragione e me ne vergogno un po' Charlie, aspettami! Dove corri adesso? Guarda, il mio amico Johnny Dici davvero? Johnny, ehi Johnny! Eccomi! Curioso Avrei giurato che fosse proprio il mio amico Johnny Sì Ecco il mio papà, papà! Maggiore, ho rivisto Johnny pochi secondi fa Come? Hai rivisto Johnny? Anch'io Sarebbe quel tecnico di laboratorio che è scomparso tanto tempo fa? Si chiamava Johnny Oyama Era giovane ma era uno dei tecnici più capaci di tutti i nostri laboratori Me lo ricordo anch'io, papà Ti chiamava fratellino Devi andare, caro, altrimenti farai tardi Dove vai? Ho una riunione giù alla centrale Ciao, cara Buon lavoro, caro Arrivederci, ciao! Arrivederci Ma tu sei Johnny Oyama Ehi, che ti è saltato in mente? Che significa tutto questo? Lei mi deve solo rivelare il segreto di Ganga, Maggiore Bronzo Tutto qui Come il segreto di Ganga? Non faccia il finto tonto, Bronzo Non lo so Parli, altrimenti la uccido Ti sbagli, io non sono a conoscenza del segreto di Ganga Dico veramente Che ti prende, Cindy? Il mio papà è scomparso, Charlie Che dici? L'elicottero su cui viaggiava papà è scomparso I colleghi della polizia scientifica lo stanno cercando ma non riescono a trovarlo Non credo alle mie orecchie Pronto Chi parla? Qui parla Oyama Oyama? Le comunico che il Maggiore Bronzo ne è in mano mia Come? Per riaverlo dovete rivelarmi il segreto di Ganga Il segreto di Ganga dice? Ha sentito bene, voglio il segreto di Ganga La polizia non è a conoscenza dei segreti di Ganga Sappiate che se non mi saranno rivelati questi segreti ucciderò il Maggiore Bronzo Eh? Eh? Johnny avrebbe rapito tuo padre? Sì E perché? Dice che vuole assolutamente conoscere il segreto di Ganga Il segreto di Ganga? Sì, è terribile Dice che se non gli riveliamo il segreto di Ganga ucciderà il mio papà Eh? Non riesco a credere che mio amico Johnny abbia rapito il papà di Cindy Eh? Non ci credo nemmeno io E non capisco neanche perché Johnny vuole il segreto di Ganga Se le cose stanno effettivamente così c'è da pensare che Johnny sia manovrato dai blaster in qualche modo Vorresti dire che i blaster lo usano come uno strumento? Precisamente Charlie, esiste sempre la possibilità che gli abbiano praticato il lavaggio del cervello Allora nonno Che cosa stiamo aspettando? Vorresti rivelare il segreto di Ganga? E perché no? No, è impossibile Ma non abbiamo scelta nonno, l'hai detto tu un minuto fa Dobbiamo rivelare il segreto per salvare il papà di Cindy È impossibile se i blaster conoscessero il segreto di Ganga Non esiterebbero ad usarlo contro di te per ucciderti Sì, ma allora che dobbiamo fare nonno? Non mi sembri abbastanza deciso Mi dispiace molto No, così non va I tuoi metodi sono all'acqua di rosa Adesso ci riprovo Dovresti vergognarti per essere sceso così in basso da farti strumento dei blaster Risparmia le tue prediche e rivelami piuttosto il segreto di Ganga Secondo il nostro elaboratore la telefonata del rapitore partiva da qui Attenti, ecco il mostro Fuoco a volontà Seguitemi Seguitemi Sta arrivando Ganga Ecco Ganga Ganga Maledetto 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 Ah Povero Ganga, non ce la fa proprio battere il nostro robot Allora sei tuo Yama, quello che controlla il mostro, è vero? Si capisce, il robot ubbidisce ciecamente a tutti i miei comandi Un in alto, eh? Comandante Slegalo immediatamente, ho un ordine Ma io non... Fa come ti ho detto Che sorpresa, eh? Lasciatemi, lasciatemi Fermo, ti uccido Comandante Comandante Ce la fa ad alzarsi, signore E così è Johnny quello che manovra il mostro, eh, maggiore? Appunto Le faccio vedere una cosa, dottore La ripresa è stata effettuata con una pellicola sensibile ai raggi infrarossi La pellicola infrarossi rivela chiaramente che il meccanismo di controllo del mostro è situato nella testa di Yama Mi sembra chiaro Quei blaster sono veramente mostruosi I blaster stanno cercando affannosamente il segreto di Ganga e sono disposti a fare qualunque cosa pur di attaccarlo Ecco perché sono arrivati a tanto Questo vorrebbe dire che se vogliamo battere i blaster dobbiamo eliminare Johnny col suo mostro Ho paura di sì, Charlie Finché vince Yama il mostro si rianimerà Quanto era buono, Johnny Gli volevo bene come a un fratello, già Sei pronto? Non è niente, Charlie, vedrai Se è un ragazzo devi essere forte Su, picchiami, picchiami forte, dai Ok Manca molto, Johnny Coraggio, Charlie, siamo quasi arrivati Coraggio E? Allora sei qui? Stavi pensando al tuo Johnny, vero? Nonno, sei insicuro che non c'è modo di salvare Johnny? Temo proprio di no, Charlie Johnny non conosce più sentimenti umani e è stato completamente plagiato dai blaster Sei proprio sicuro che non c'è nulla che possiamo fare per farlo tornare come era? Magari fosse possibile, Charlie Sfortunatamente nel Johnny Yama plagiato dai blaster non rimane una briciola d'amore per il prossimo Amore per il prossimo? Spiegati Ascolta, mi pare di averti raccontato una volta che il cuore umano è come un campo di battaglia Dove c'è sempre in corso una battaglia fra l'odio e l'amore E quando l'odio riesce a dominare sull'amore L'uomo diventa un demonio Sì, adesso mi ricordo, nonno L'uomo è capace di distruggere la felicità degli altri uomini e perfino se stesso È terribile per gli uomini avere l'odio nel cuore Maledetti blaster hanno distrutto il cuore di Johnny Devi radere al suolo la palazzina dove assiede la polizia scientifica internazionale Devi avere una cura particolare per i locali in cui sono situati tutti gli strumenti di controllo I terrestri non devono seguire i nostri movimenti, è chiaro? Quel dannato robot ci sta attaccando Seguitemi, avanti! Purtroppo non hai via d'uscita, Charlie Devi annientare Johnny se vuoi disperdere i blaster e salvare la città Non posso farlo Come faccio ad uccidere il mio amico Johnny? Corri! Corri! Ma se si sa che papà non è più in pericolo Aiuto! Bravo, così distruggi tutto Ma Ganga, perchè non viene ad aiutarci? No Charlie, Cindy e tutti gli altri sono in pericolo Devi andare subito Devi essere forte Charlie No, non posso uccidere il mio amico Johnny Fatti vedere Ganga, sei coraggio Ganga 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 Sta arrivando Gang Sei venuto a salvarci Eccolo Conviene attaccarlo subito Ganga non poteva mancare all'appuntamento Ganga Acerca 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 Ganga Acerca 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 Non c'è più il comando a distanza Sei un ragazzo, devi essere forte Su, picchiami, picchiami forte, dai No, non devo farmi confondere Il Johnny di oggi non è più quello che conoscevo e che mi era amico Scusami Johnny, scusami Charlie Il Johnny di oggi Mostri i guerrieri ed astronavi Per il cielo oscuro In alto i missili e lancia termiche E mille più robot Ma noi che siamo uomini Noi difenderemo la libertà Ecco gli eroi Che insieme a noi lotteranno Charlie è là Insieme a usi e giacco di grande Ancora 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 Ancora